Elezioni comunali a Campobasso. Qualche giorno fa era trapelata la notizia di un ricorso per una delle liste della coalizione civica di Pino Ruta per mancanza di quota rosa. I dubbi erano legittimi, la Prefettura ha infatti escluso tre candidati, tutti di sesso maschile, inseriti all'interno della lista di terra unica a Molise. Pino Ruta, fra l'altro primo dei candidati a presentare le liste in municipio, con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza di sabato, riportava solo sette donne su 24 candidati complessivi, non rispettando di fatti la quota di genere. Per legge infatti nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Dunque necessaria un'altra candidata donna. Dunque adesso la lista di terra unica a Molise si riduce a 21 candidati, fra l'altro il numero minimo previsto per la presentazione di una lista di candidati. Quindi ancora in corsa per le prossime elezioni comunali.